La coda del violento fenomeno di Downburst, che nelle marche ha seminato distruzione e feriti lungo la spiaggia nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito anche la costa terramana. A cominciare da Alba Adriatica fino a Cologna, ci sono state per fortuna conseguenze lievi per il passaggio della fortissima corrente discendente di vento, in questo caso non accompagnata dappertutto da rovesci di acqua, che ha sferzato piante, palme, rovesciato cartelloni stradali e fatto volare di tutto in spiaggia. A Giulianova addirittura c'è stato un momento in cui la visibilità era ridottissima per via della sabbia trasportata dappertutto. In quasi tutti gli stabilimenti c'è stato il fuggifuggi generale dei bagnanti, che erano ancora in spiaggia nonostante il fronte di maltempo fosse ben visibile e minaccioso da nord. A Tortoleto momenti drammatici sono stati vissuti intorno alle 19, quando le raffiche hanno raggiunto la maggiore intensità. Proprio in questo comune i vigili del fuoco hanno lavorato in serata per la rimozione di una copertura in lamiera alla sommità di un condominio e a Roseto per la rimozione di un albero caduto. In totale i pompieri hanno effettuato la ventina di interventi per ripristinare la viabilità interrotta dalla caduta di alberi e rame sulla sede stradale e per rimuovere elementi pericolanti di cartelloni pubblicitari divelti. Il Centro Funzionale della Protezione Civile d'Abruzzo comunica che per la giornata di oggi è prevista una criticità ordinaria con allerta gialla per rischio idrogeologico contemporane su tutte le zone di allerta. I comuni interessati dalla criticità sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto tutte le azioni previste nei piani di emergenza in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.